Attraverso Flora Centro Spirituale Frattocchie Attraverso Flora Domanda Che cos'è un sogno? Guida È il ricordo di episodi di vite passate aggiornati alle situazioni del tempo attuale ma i sentimenti, gli stati d'animo, le sensazioni sono quelli che avete già conosciuto in altre epoche è vero che i sogni spesso portano ispirazioni o consigli utili per il futuro ma è molto importante il sogno regressivo quello cioè che si riferisce ad un fatto vissuto anche se inquinato dall'ambiente attuale oltre che attraverso i sogni si può ricordare anche negli stati di meditazione avanzata anzi in questo stato si è più attivi il sogno è più controllabile un po' di yoga vi aiuterebbe ad aprire altre finestre su quel meraviglioso giardino chiamato vita l'obiettivo potrebbe essere il viaggio astrale che sarebbe per voi un'esperienza esaltante domanda domanda quando si sogna qualcosa del piano astrale si tratta di un ricordo o di un vero viaggio risposta dipende se tu riesci a comandarlo è un vero viaggio se invece sei passivo stai rivisitando un'esperienza passata domanda perché è più facile rivivere episodi di vite passate anziché esperienze vissute nel piano astrale risposta per tre motivi uno perché è più istruttivo due perché è più vicino alla materia tre perché la legge dell'oblio ti preclude almeno in parte il nostro mondo domanda anche se il sogno sembra stupido e senza senso risposta sì anche se il sogno sembra tale alla tua mente cosciente esso va a toccare certe corde del tuo inconscio che possono modificare il tuo comportamento futuro domanda a volte i sogni rappresentano vere e proprie gratificazioni dell'io ci si sente nelle vesti di eroi risposta e qui veniamo alla risposta di Giovanna si sogna quello che si vorrebbe fare e non si può fare nella vita di tutti i giorni e quindi ci si crea una realtà virtuale dove uno diventa quello che non può essere domanda è un po' quello che avviene poi sul piano astrale? risposta sì ma c'è una differenza nell'astrale tu fai qualcosa senza il desiderio di apparire agli altri per esempio puoi decidere di andare a vedere i dinosauri per appagare una tua curiosità mentre il sogno dove rivesti la figura dell'eroe ti permetti di apparire agli occhi degli altri in una luce speciale hai l'impressione di essere il migliore di tutti continua ciao 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 ciao